Ciao ragazze, oggi sono qui per farvi il tag The Ride or Die Makeup che è stato lanciato su Youtube da Jacqueline Hill non sono stata taggata da nessuno almeno finora ma ho voluto fare lo stesso questo tag perché mi piace veramente tantissimo praticamente questo tag consiste nello scegliere un prodotto per ogni categoria quindi dobbiamo buttare tutti i nostri prodotti quale scegliamo per ogni categoria quindi praticamente è il top dei top il primo prodotto è il primer viso e il primer occhi allora come primer viso io ne ho solo uno che è quello di Too Faced mi piace però sinceramente ho solo quello quindi anche se non ci fosse non è un prodotto che appunto uso spesso anche se non ci fosse pazienza per il primer invece occhi ho solo questo qua di Zoeva anzi no in realtà ne avrei un altro che però non mi piace però praticamente uso sempre questo, solo questo se non ci fosse pazienza nemmeno compro un altro cioè non è un prodotto proprio top dei top non lo posso considerare top dei top perché ho solo questo ecco il fondotinta è assolutamente scelgo il Lili Lolo credo di essere una delle pochissime su youtube almeno ad utilizzare molto spesso il fondotinta in polvere e minerale a me piace tantissimo perché è un prodotto che si applica facilmente può essere modulato insomma mi piace molto e tra quelli che ho scelgo assolutamente il Lili Lolo anche se ha veramente una bassa coprenza però mi piace l'effetto che dà sul viso mi rende la pelle comunque omogenea, liscia non mi fa lucidare quindi scelgo assolutamente lui per quanto riguarda invece il correttore io avrei bisogno sempre di due correttori quindi un correttore giallino per minimizzare le mie occhiaie rosse e violacee e poi sopra un correttore illuminante quindi in teoria io per le occhiaie avrei sempre bisogno di due colorazioni però vabbè in questo caso appunto scelgo solo una e ho deciso di scegliere il correttore vanilla di Nars perché mi piace veramente tantissimo questa colorazione che comunque è illuminante, leggermente rosatina ma forse anche neutra e poi mi piace proprio l'effetto che dà sul contorno occhi luminoso liftante e dura un sacco è vero che costa però è veramente un buon correttore per quanto riguarda la cipria anch'io faccio due distinzioni quindi una cipria per il viso e una cipria per il contorno occhio ormai dà tantissimo che le divido sempre a meno che appunto non vado fuori e me ne porto solo una ovviamente per il viso assolutamente la Primed and Poreless di Too Faced che io tengo sempre nella scatolina perché come si fa a buttare queste scatoline troppo carine non so se sinceramente esiste ancora questo formato in polvere ha un buon inchi tra l'altro ed è assolutamente la migliore per quanto riguarda l'effetto opacizzante quindi scelgo assolutamente lei poi minimizza anche i pori quindi mi piace un sacco come cipria invece per il contorno occhio ho scelto questa di Kiko la Radiant Fusion Back Powder quindi quella compatta illuminante perché mi piace molto sul contorno occhi anche perché è anche questa perfetta impalpabile non va nelle rughette ed è anche illuminante e poi è compatta quindi avrei una cipria in polvere e una compatta una mattificante e una illuminante questa all'occorrenza va benissimo anche proprio sul viso in inverno non tanto perché io comunque ho una pelle mista che tende a lucidarsi quindi magari in inverno la utilizzerei sul contorno occhi mentre in estate va benissimo anche proprio su tutto il viso l'ho utilizzata anche quest'estate su tutto il viso perché in estate io non mi lucido mi piace comunque un effetto illuminante come terra assolutamente Gotham di Nabla perché è una colorazione perfetta per la mia carnagione la userò tanti adesso sto usando Saint Tropez che è comunque più un bronzo è più una terra calda però questa è perfetta per me perché è proprio chiara e ha un leggerissimo sottotono rosato che così non si vede però se la confrontate con un'altra terra da un sottotono giallo si nota tantissimo e praticamente si stende da sola è favolosa è modulabile non rischia assolutamente effetto macchia io l'amo assolutamente è stata dura poi scegliere un blush perché ne ho tantissimi comunque li cambio spesso però ho scelto sempre lui che è anche quello che indosso che è il Pink Leopard di Too Faced l'ho scelto perché innanzitutto qui in Italia si fa fatica a trovare non so se si riesce a trovare qui in Italia questo infatti mi era stato inviato da Too Faced mi piace tantissimo il packaging eccolo qui leopardato ma mi piace proprio tantissimo anche indosso io lo prendo sempre in mezzo perché in mezzo da questo effetto rosato però non è proprio rosato ed è luminoso se invece si prende tutta la chalda si ha questo effetto un po' tipo bronzato infatti è un blush bronzer loro lo chiamano poi dura tantissimo i blush di Too Faced durano veramente tantissimo e sta bene con qualsiasi trucco quindi assolutamente lui come illuminante anche qui è stata dura perché mi piacciono ce ne ho vari mi piacciono tantissimo quasi tutti quelli che ho e però rimane lui il top dei top sempre il Mary Lou Manizer di The Balm che ha un effetto bellissimo ve ne ho parlato mille e mille volte c'è poco da dire è stupendo basta è veramente stupendo come illuminante poi è anche modulabile anche questo ha un effetto bagnato bellissimo basta non vi dico nient'altro perché ve ne ho parlato veramente tantissime volte è prodotto per sopracciglia senza alcun dubbio la brow divine di Nabla la uso sempre ormai da non so quanti mesi adesso la prendo questa qui poi è anche comoda perché ha il pennellino da questo lato la matita da quest'altro quindi la trovo veramente comoda e funzionale praticamente con questo video state capendo bene o male quali sono le mie marche preferite perché poi sono le due o tre che vi cito sempre ecco come palette di ombretti ho scelto la Chocolate Bar di Too Faced con cui ci ho fatto anche il trucco oggi su gli occhi ero indecisa tra questa e la Sweet Peach però la Sweet Peach mi piace tantissimo però forse la Sweet Peach è più adatta per la primavera-estate mentre la Chocolate Bar è adatta un po' per tutte le stagioni per tutte le occasioni ha dei colori che mi piacciono tantissimo che si possono utilizzare poi anche di giorno anche di sera come ad esempio questo oro che ho messo oggi il Borgogna che sapete mi piace tantissimo i colori Borgogna ma poi anche questo qua illuminante che poi mischiato anche con gli altri colori è perfetto appunto per un trucco da giorno quindi ho scelto lei proprio perché secondo me è una palette un pochino più versatile rispetto alla Sweet Peach anche se quella devo dire mi piace tantissimo se avessi potuto scegliere due palette avrei scelto la Sweet Peach per la primavera-estate e questa per l'ottuno inverno come ombretto mono qui non ho avuto nessun dubbio e sono sicura che se mi seguite lo sapete anche voi è Unrestricted di Nabla questo colore è un colore favoloso così sembra un marrone con delle pagliuzzette dorate all'interno quando si sguoccia però poi diventa un prugna bellissimo che io uso praticamente sempre nella piega sta bene con qualsiasi trucco mettete qualsiasi ombretto sulla palpebra mobile poi mettete lui nella piega e sta bene con qualsiasi veramente trucco lo amo da quando è uscito da quando è uscito praticamente non ne posso più fare a meno come eyeliner non ce ne frega una mazza perché io non li uso purtroppo però come buon proposito del 2017 vorrei iniziare ad imparare ad utilizzare l'eyeliner perché sì come mi dite molto spesso voi anche secondo me mi starebbe bene però ogni volta che mi trucco vado sempre veloce non ho tempo di star lì con l'eyeliner poi mi viene sempre una schifezza e non ho voglia poi di struccarmi ritruccarmi quindi poi alla fine non ci prendo mai la mano ma appunto come buon proposito del 2017 c'è imparare l'eyeliner imparare a mettere l'eyeliner poi rossetti e qui viene il bello rossetti tinte labbra eccetera come rossetti è stata dura scegliere però allora qui ne ho scelti due perché non posso assolutamente sceglierne solo uno ho scelto uno praticamente adatto per tutte le occasioni adatto di giorno di sera soprattutto in autunno inverno che è quello che indosso ovvero craving che è questo veramente bellissimo uno dei colori più utilizzati di mac che ho e mi piace un sacco perché poi è un amplified quindi è molto cremoso però dopo un poco tempo si fissa dura tantissimo tinge anche un pochino le labbra ed è un colore favoloso per l'autunno e inverno poi anche idratante sulle labbra mentre per la primavera estate ho scelto lui il mitico Fireboards di Urban Decay che tra l'altro mi avete visto indossato negli ultimi promossi e bruciati tipo ed è bellissimo anche questo tra l'altro lo hanno messo in permanente quindi lo trovate in permanente ed è un fucsia viola con dei riflessi blu stratosferici se non lo avete ancora preso per la prossima estate prendetelo è troppo bello veramente sulle labbra è qualcosa di fantastica ha una durata eccezionale cioè dura tutto il giorno quando poi va via l'effetto lucido praticamente vi rimangono le labbra colorate sono dei rossetti un po' cari perché questo 20 euro questo tipo 18 però ne vale assolutamente la pena come tinta labbra ho scelto senza alcun dubbio una di cui ancora non vi ho mai parlato anzi vi devo parlare di perché ne ho varie di tinte labbra e color pop e nix eccetera eccetera ve ne devo parlare molto presto ma io ho scelto androgini di jeffree star innanzitutto perché queste tinte sono veramente ottime con forte con forte sulle labbra hanno un effetto bellissimo sulle labbra ve ne voglio parlare fare proprio un video specifico su quelle quattro che ho ma poi ho scelto androgini perché comunque è un colore autunnale invernale che ho desiderato tantissimo al Cosmoprof è molto particolare varia tantissimo da labbra a labbra è un po' diverso sulle mie labbra da come appare qui poi vi farò vedere ovviamente ma assolutamente jeffree star come tinta labbra senza alcun dubbio che io ho comprato sul sito beautylish non amo particolarmente i gloss non ne ho tantissimi ma ho scelto dancers in pink di neve cosmetics perché è un colore che ho utilizzato tantissimo questa primavera soprattutto sì in primavera e mi piace perché comunque rispetto ai classici gloss dura un pochino di più e niente insomma ho scelto lui non ne ho tanti quindi diciamo che non è stata una scelta molto difficile ecco qui anche questo sta bene un pochino con tutto come mascara ho scelto il mascara volume della collezione Cosmo Samurai di Wicon mi sta piacendo veramente tantissimo ve ne parlerò meglio nel prossimo video dei promossi però vi ho già spoilerato un promosso però mi piace tanto perché dà un effetto veramente bellissimo alle cilie un effetto ventaglio le allunga le incurva le infoltisce insomma bello veramente molto bello mi piace tantissimo anche lo scovolino quindi ho scelto senza ombra di dubbio lui come smalto invece ho scelto lui essi muci muci che come vedete ho utilizzato un sacco è un colore come lo chiamo io da sposina perché comunque è un rosa molto molto leggero un effetto proprio di labbra molto curate nude a parte che dura tantissimo più di una settimana l'unica cosa è che comunque devo farci un paio di passate per un effetto diciamo più coprente ecco per quanto riguarda le ciglia finte anche qua non ce ne frega una mazza perché io non le uso però anche questo sarà un buon proposito per il 2017 me la devo segnare sull'agenda invisibile tutti questi buoni propositi perché non ho un'agenda quindi praticamente imparare anche ad usare le ciglia finte perché secondo me mi starebbero abbastanza bene magari come pennello senza ombra di dubbio il 217 di MAC che ho da una vita e che è comunque perfetto per le sfumature soprattutto per la mia palpebra molto piccola veramente fa delle sfumature precise ottime ce l'avrò da non so sei anni probabilmente sì forse ed è comunque sempre perfetto e comunque all'occorrenza può essere utilizzato anche proprio da applicare su tutta la palpebra mobile quindi assolutamente scelgo lui come makeup fixer non uso nulla una volta utilizzavo quello di MAC il fix plus di MAC mi piaceva molto però insomma non è un prodotto che utilizzo quindi niente come prodotto jolly o profumo io ho scelto il signorina eleganza di salvatore ferragamo non l'ho utilizzato tanto perché mi piace troppo ho sempre paura di finirlo comunque per quelle volte che l'ho utilizzato mi piace davvero da morire è così femminile ma elegante e avvolgente allo stesso tempo non sono una grande amante dei profumi lo sapete io preferisco le acque profumate perché sono un po' più fresche perché spesso comunque i profumi mi creano mal di testa ma questo qui mi piace da morire non mi crea assolutamente mal di testa ed è favoloso insomma è veramente favoloso anche una buona durata diciamo che è un profumo che uso più in autunno e inverno però è veramente favoloso ed è sicuramente ve lo consiglio questo è tutto ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia fatto anche un pochino di compagnia no? e io taggo tutte voi ma in particolare vorrei taggare Michelinia My Carly Colors non so se siano già state taggate comunque io le taggo lo stesso mi sto intanto zozzando tutta con tutti questi swatch e belle naturalmente 93 non mi viene più nessun altro nome in mente io vi mando un grossissimo bacio ragazze e al prossimo video ciao ciao ciao